. Sabrina Ghio ha rinunciato all'Isola dei Famosi? La prova e il motivo Isola dei Famosi, Sabrina Ghio non ci sarà? L'ultima decisione dell'ex-tronista di Uomini e Donne. . Sabrina Ghio è uno dei primi nomi spuntati tra i papabili nuovi naufraghi dell'Isola dei Famosi. La sua presenza era ormai super confermata, o quasi. D'altronde, la diretta interessata rivelò che avrebbe potuto prendere parte al reality show, anche se c'era ancora un ma da risolvere. . In ogni caso, ad oggi le cose potrebbero essere cambiate. . . Sabrina Ghio non parte più per l'Isola dei Famosi? Le ultime news sull'ex-tronista. . Sabrina Ghio ha trascorso alcuni giorni di vacanze in Messico con alcuni dei suoi amici, restando così lontana dalla sua amatissima figlia, Penelope. . L'ex-tronista di Uomini e Donne è rientrata in Italia da pochissimo tempo e sta cercando di recuperare il tempo perso con la sua piccolina. . In una storia pubblicata pochissime ore fa, la Ghio pare abbia voluto avvertire i fan di una sua presunta rinuncia. . Sta forse parlando dell'Isola dei Famosi? Il fatto che il suo nome non sia ancora stato confermato rende l'ipotesi di un suo ritiro sempre più possibile. . Isola dei Famosi, gli ultimi dettagli sulla presenza di Sbarina Ghio. . 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